Avevano compiuto due rapine a mano armata a San Benedetto. Grazie ad una moto veloce e leggera si districavano con facilità nel traffico, sfuggendo ad ogni tipo di controllo. Ma la fuga di Domenico Di Rocco, 39 anni, e di Gianni Tommarelli, 22 anni, entrambi di origini rom, si è conclusa ieri mattina. I due sono stati tratti in arresto da agenti del commissariato di polizia. In verità uno dei due era già in carcere, dunque gli è stata solo notificata l'ordinanza di custodia cautelare. Armati di una pistola a tambura autentica, una Smith & Wesson calibro 38, recuperata qualche tempo fa dai carabinieri nel corso di un'altra indagine, i due rom avevano assaltato la filiale Acqua e Sapone di Portodascoli, il 15 giugno dello scorso anno, e il 27 successivo, il negozio Vitababy, lungo la stata alle 16. In tutte e due le occasioni avevano un casco da motociclista, nero calato in testa, e sono scappati a tutta velocità a bordo di una motocicletta naked, rubata in precedenza nel Terramano. Utilizzavano anche un'altra particolarità, una moto con caratteristiche naked, da cui ha tratto poi ispirazione il nome dell'operazione, che è particolarmente agile e si riesce a districare bene nel traffico per consentirgli una rapida via di fuga. A inchiodarli le riprese delle telecamere a circuito chiuso degli esercizi pubblici, dalle quali si è potuto risalire all'identità dei due, che qualche giorno prima avevano compiuto i sopralluoghi nelle attività. Attraverso la traccia dei telefonini, gli uomini del commissariato di San Benedetto sono riusciti a risalire agli spostamenti dei due rapinatori, entrambi residenti a Giulianova, e si è anche scoperto che impiegavano meno di dieci minuti per percorrere il tratto San Benedetto-Giulianova, senza percorrere l'autostrada. Il tutto grazie ad una targa falsa e ad una moto rubata, cui era impossibile risalire anche in caso di segnalazione. Altro dettaglio inquietante è che operavano con una pistola vera, trovata con tanto di proiettili in canna. Il sospetto dell'investigatore è che con la medesima tecnica abbiano messo a segno altri colpi in zona. E per questo le indagini sono ancora in corso. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal GIP di Ascoli Piceno Annalisa Gianfelice.